Franz Rosenzweig nasce a Kassel in Germania il 25 dicembre del 1886. La sua famiglia d'origine è una famiglia ebrea di raffinatissima cultura che gli permette di studiare dapprima la medicina per allontanarsi poi verso la storia e la filosofia, ambiti di interesse che coinvolgono maggiormente il giovane studioso. In particolare tra i suoi maestri vi sono Rikert e Meinecke. Rosenzweig, che come si diceva è di famiglia ebrea ma con tiepidi, tiepidissimi sentimenti religiosi, progetta addirittura di convertirsi alla religione cristiana e tuttavia dopo un'attenta e lunga crisi che segna il punto nodale della sua vita riscopre l'antica religione e così decide nell'ottobre del 1913 di rimanere ebreo. Affetto da una malattia davvero grave resta paralizzato e riesce a studiare unicamente in virtù delle cure che gli sono offerte dalla moglie, alla quale moglie Rosenzweig indicava con uno speciale apparecchio le lettere dell'alfabeto che di fatto compongono le parole. Muore nel 1929 ad appena 43 anni di vita. Le sue opere principali, quelle degne di dimensione sono Egel e lo Stato del 1920, la Stella della Redenzione del 1921 e poi il Nuovo Pensiero del 1925. A fondamento della riflessione filosofica di Rosenzweig vi è il netto rifiuto delle pretese idealistiche e totalizzanti della filosofia. La filosofia moderna, spiega Rosenzweig, si è radicata nella condizione mortale del singolo ma ha poi finito per negare la realtà della morte e del tempo. Hegel rappresenta sotto questo riguardo un punto fondamentale. Hegel con il quale Rosenzweig si confronta nel suo testo che è molto risente di Richard e di Meine che in verità il suo testo Hegel e lo Stato del 1920 in cui si segue il percorso di sviluppo della filosofia di Hegel interrogandola dal punto di vista della forma Stato. Bene, la filosofia moderna tende a negare la morte il tempo a perdersi in una visione idealistica e totalizzante. Da ciò scaturisce la tesi di Rosenzweig secondo cui bisogna liberarsi di questa filosofia. La paura della morte genera la filosofia ma la filosofia nega la realtà della morte. Scrive Rosenzweig nel suo la stella della redenzione del 1921, rigettare la paura che attanaglia ciò che è terrestre, strappare alla morte il suo aculio velenoso, togliere alla del suo miasma pestilente, di questo si pretende capace la filosofia. Infatti, spiega Rosenzweig, la filosofia che trae origine dal timore della morte tenta poi di ingannare l'uomo attraverso l'idea della totalità e in questo modo di sottrarlo alle spire della morte. Scrive così Rosenzweig nella stella della redenzione, poiché certo un tutto non morrebbe e nel tutto nulla morirebbe, soltanto ciò che è singolo può morire e tutto ciò che è mortale è solo. Ebbene, pur muovendosi nella stessa atmosfera esistenzialistica propria dello Heidegger pre-chere, quindi la Heidegger di Sinuszeit 1927, a cominciare dal tema della natura personale della morte, come nota Heidegger in Essere e Tempo non si muore, ma ciascuno muore nella propria individualità irripetibile, ebbene Rosenzweig però non tematizza l'uomo senza Dio, Gottlos in tedesco, tematizza invece l'uomo immerso in un insieme di rapporti al cui vertice vi sono la comunità, il mondo e Dio. In particolare, scrive Rosenzweig, l'uomo deve impegnarsi nella ricerca di un nuovo pensiero, così titola il testo del 1925 di Rosenzweig, il nuovo pensiero. Un nuovo pensiero che sia alternativo a quella tradizione filosofica che va dalla Ionia fino a Iena, cioè dai cosiddetti presocratici fino alla Iena di Fichte e di Hegel. I caratteri cardinali di questo nuovo pensiero, come Rosenzweig lo chiama, sono essenzialmente la decostruzione dell'idea di totalità speculativa propria del passato, soprattutto di Hegel, ma anche di Spinoza, e il tentativo di creare un nuovo concetto di totalità che sia rispettoso delle prerogative del singolo e delle sue esigenze. Ecco perché la fedeltà all'esperienza e dunque alla concretezza del reale e poi l'unione inscindibile di filosofia e teologia, cioè dell'individuazione di una filosofia teologica, o se si preferisce di una teologia filosofica, sono i due punti salienti del nuovo pensiero cercato da Rosenzweig nel tentativo di edificare una totalità che, a differenza di quella spinoziana o di quella hegeliana, rispetti l'individuo e le sue esigenze. Secondo Rosenzweig, ogni uomo vive di due cose, credere e sapere. Parlando riduttivisticamente per esse di religione e di filosofia, se ne fanno delle mere discipline specialistiche. Diventa il credere e il sapere una mera questione privata che non tocca la concretezza della vita pubblica e nemmeno riguarda in ultima istanza la vita dell'individuo realmente vivente. Bisogna quindi riscoprire la fede e il sapere nella loro vivente e palpitante realtà. Fede e sapere non sono la stessa cosa, la fede è un dono, il sapere è un'acquisizione. E non di meno anche la fede in relazione con un'attività e con il sapere. Scrive Rosenzweig, l'azione non è opera di una libertà, bensì l'adempimento di una preghiera. Nel rapporto fra il docente e il discente indicato da Rosenzweig sta di fatto forse il suo messaggio educativo ancora oggi innovatore. Il docente non deve soltanto insegnare, il docente, dice Rosenzweig, deve anzitutto saper ascoltare e ciò genera un nesso vivente interpersonale basato sull'oralità capace di instaurare una vera e propria amicizia. La rottura della totalità idealistica egheliana, o spinoziana se si preferisce, fa sì che il pensiero si trovi dinanzi ai tre elementi di base che costruiscono da sempre il nucleo dell'esperienza dell'essere, Dio, il mondo e l'uomo. Questi tre elementi, Dio, mondo e uomo, dotati di una natura preriflessiva e metafisica che li colloca al di là del pensare concettualmente determinato, non devono essere colti nel loro isolamento e nella loro individualità, nella loro separatezza, come avviene nella percezione astratta o nelle concezioni pagane delle cose. Devono essere colti nella loro connessione reciproca vivente, Dio, mondo, uomo. Ebbene, il legame che connette Dio al mondo è la creazione, dice Rosenzweig. Il legame che connette Dio all'uomo è la rivelazione e il legame che collega il mondo all'uomo è la redenzione. La creazione, spiega Rosenzweig, si attua in un dire che permea le cose. Egli disse e la cosa fu, si dice nei testi sacri. Insomma, la creazione si attua in un dire che permea le cose facendosi che la sequenza del reale si risolva nella trama linguistica che la rende viva. Particolare importanza assume allora il linguaggio che Rosenzweig assume come la forma stessa delle relazioni che connettono Dio, l'uomo e il mondo. I concetti teologici fondamentali, creazione, rivelazione e redenzione, assurgono quindi per Rosenzweig avere e proprie categorie ontologiche, come ha giustamente sottolineato Levinas nell'interpretare l'opera di Rosenzweig. Il risultato è quello per cui la religione, che vuol dire unione, unisce la religione, di fatto diventa una sorta di struttura veritativa profonda dell'essere. Ed è la verità religiosa, ebraismo e cristianesimo nella loro complementarietà, secondo Rosenzweig, rappresentano le incarnazioni più alte. Sotto questo riguardo, dice Rosenzweig, occorre che i singoli e i popoli retino testimonianza della verità della religione, da che ammonisce Rosenzweig il camminare nella luce del volto di Dio, cioè muoversi all'interno dello spazio aperto dalla stella della redenzione, è unicamente concesso a chi di fatto segua le parole che la bocca di Dio emana. Quindi la stella della redenzione sta nel seguire il messaggio di Dio, nel camminare nella luce del volto di Dio. Come affiora limpidamente dalle parole dell'antico profeta Michea, riportati dalla stella, egli ti ha detto, o uomo, ciò che è bene è ciò che esige da te l'eterno tuo Dio, cioè praticare la giustizia, essere buono nel cuore e camminare in semplicità con il tuo Dio. Ecco quindi che Rosenzweig, che aveva preso le mosse dalla constatazione della morte, passato attraverso la rivelazione e l'amore, giunge al non più libro della vita, cioè all'impegno etico-religioso nei confronti dell'esistente e del prossimo. Ecco perché Rosenzweig cerca di opporsi fermamente all'idealismo che considerava la base culturale dello stato totalitario, secondo un tema che Rosenzweig già studia, come ricordato nel suo libro su Hegel e lo stato, e all'idealismo totalizzante alla Hegel contrappone la concretezza dell'io e dell'esistenza, della relazione vivente tra Dio, mondo e uomo. Un'esistenza concreta legata al futuro, ma anche alla possibilità del nulla, alla morte e alla trascendenza. Ecco perché la filosofia è inadeguata di fronte alla morte, dice Rosenzweig, e anche è inadeguata di fronte alla morte la solitudine del suicidio. Nel timore della morte l'uomo deve rimanere, dice Rosenzweig, e solo può redimersi grazie alla stella della redenzione offerta dal messaggio di Dio.